La mamma 29enne che la notte fra il 17 e il 18 ottobre scorsi aveva parturito nella sua casa di Osilo, abbandonò il figlio per strada sotto un'auto parcheggiata lì vicino, dovrà rispondere di tentato omicidio. Il Tribunale del Riesame di Sassari su richiesta dei PM Maria Paola Zare Paolo Piras ha riqualificato l'ipotesi di reato da abbandono di minore a tentato omicidio. Il Riesame ha lasciato comunque in libertà la donna, secondo i giudici infatti non sussiste il pericolo di reiterazione del reato né il rischio di fuga. La Procura della Repubblica di Oristano ha posto sotto sequestro due aree attigue ad un chiosco di Torre Grande. La squadra mobile della polizia indaga sulla presenza di alcune pedane che apparterebbero al cantiere comunale Andreazzori. È mistero a Torre Grande su una piccola area che è stata sequestrata a sua disposizione della Procura di Oristano. Due aree sono finite sotto sequestro giudiziario nel lungomare di Torre Grande. Si tratta di due piccoli appezzamenti collocati sul retro lato mare di un chiosco attualmente chiuso. Lo ha deciso la Procura della Repubblica di Oristano dopo un rapporto della squadra mobile coordinata dal dirigente Samuele Cabizzoso. Il provvedimento è messo il 10 gennaio scorso ed è passato quasi inosservato. Da noi contattato il dirigente della polizia ha confermato le indagini in corso mantenendo il più stretto riservo. In realtà non farebbe quasi notizia se non fosse che queste pedane proverrebbero, usiamo il condizionale, dal cantiere comunale. Sembrerebbe, secondo gli investigatori, che alcune pedane in legno sarebbero state a suo tempo prelevate da un deposito appartenente all'amministrazione comunale di Oristano per poi essere collocate nel retro del locale del lungomare. Dal comune nessuna reazione ufficiale e trappela al momento solo un comprensibile imbarazzo. In seguito alle prime verifiche della squadra mobile della polizia e il relativo rapporto alla magistratura è arrivato il sequestro cautelativo dell'area. Il giallo potrà essere chiarito solo dopo ulteriori accertamenti disposti dalla procura. Tra questi anche l'audizione del titolare del chiosco dove sono state sequestrate le aree. Unico dato certo al momento il provvedimento giudiziario che ha posto i sigilli sulle due aree. Il trasferimento del medico Tommaso Cocco dal carcere di Cagliariuta al Pagliarelli in Sicilia ha suscitato stupore. Nonostante un alleviamento delle accuse, con la revoca del reato di associazione, si è verificata una compensazione con un peggioramento delle condizioni di detenzione. La garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna, Irene Testa, ha espresso preoccupazione per le pessime condizioni di salute, sia fisiche che psichiche, riscontrate nell'assistito dell'avvocato Rosaria Manconi. Il giro d'affari del gioco d'azzardo in Sardegna nel 2022 è stato di ben 1,4 miliardi di euro. Il nord-ovest dell'isola è la zona in cui i giocatori sono più presenti e tra questi c'è anche chi soffre di ludopatia. Ce ne parla Valentina Ruiu. Sono allarmanti i dati che emergono dall'ultima edizione del libro blu pubblicato dall'agenzia Dogane e Monopoli. Nel 2022 il giro d'affari per il gioco d'azzardo in Sardegna è stato di 1,4 miliardi di euro, un'enorme quantità di denaro per una regione che versa in difficoltà economica. Tali cifre economiche sono generate sia da chi acquista un grato e vinci ogni tanto sia dai ludopatici, i cui numeri sono sottodimensionati già che il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psicologico dove le persone tendono a non cercare aiuto, a nasconderlo o a cercare di mantenere il controllo anche laddove questo viene a mancare. La parte nord-occidentale della Sardegna in particolare ha una grande prevalenza di giocatori e un ambito dove al contrario delle dipendenze da sostanze, dove il sesso maschile è più rappresentato, il gioco d'azzardo patologico invece si distribuisce tra entrambi i sessi, anzi alcuni aspetti del gioco sono particolarmente rappresentati nel sesso femminile, al contrario delle dipendenze da sostanze. I tentativi di interrompere in autonomia il comportamento patologico non sempre vanno a buon fine, è fondamentale chiedere aiuto, il Sardegna di Sassari che allo stato attuale in trattamento oltre 100 pazienti offre il suo contributo. La ASL di Sassari è segnatamente il servizio per le dipendenze, ha una equip dove lavorano tre psicologi che si occupa elettivamente del gioco d'azzardo patologico, quindi l'accesso è un accesso libero, chiunque può chiedere aiuto si può presentare, noi non abbiamo delle liste di attesa, nel senso che chiunque abbia bisogno di aiuto si presenta e viene subito accolto con dei colloqui valutativi, poi c'è, se viene la necessità, la possibilità di usufruire di trattamenti anche farmacologici, non solo psicologici, che costituiscono però al momento attuale l'elemento terapeutico principale. Proseguiamo con la cronaca. Il 12 gennaio a Bancali un detenuto extra comunitario ha minacciato un agente della polizia penitenziaria con una lametta puntandogli alla gola. Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sappe, ha dichiarato che l'agente responsabile della sezione protetti è stato minacciato mentre si trovava da solo nella sezione. Grazie all'intervento tempestivo di altri detenuti e dei poliziotti del piano superiore è stato evitato il peggio e l'agente ha riportato una lesione alla gola fortunatamente superficiale. SWS, l'associazione che aiuta i sardi a curarsi fuori dalla Sardegna, ha aperto una nuova sede a Quartu supportato da Domomia. L'obiettivo è dare maggiore supporto a chi ha necessità di curarsi ma non ha gli strumenti per farlo. Sentiamo Mauro Loddo di UTG. Dare supporto economico a tutte quelle persone che, per motivi di salute, sono costretti a recarsi in strutture sanitarie al di fuori della Sardegna e non hanno i mezzi per farlo. E questo è l'obiettivo di SWS Viaggi per la Salute, la prima associazione in Italia che si occupa del tema della migrazione sanitaria che oggi inaugura un nuovo spazio a Quartu, accolta da un'altra associazione, Domomia. Noi ci occupiamo di migrazione sanitaria a 360 gradi, quindi aiutiamo tutte quelle persone costrette a doversi allontanare dalla propria regione e quindi a attraversare il mare per potersi curare. L'associazione gestisce inoltre per conto del paziente i vari aspetti necessari a raggiungere la legittima speranza di guarire. Lì tuteliamo anche legalmente laddove ci siano delle controversie proprio con l'ufficio e poi li aiutiamo a trovare una casa di accoglienza, li aiutiamo a fare i biglietti aerei navali laddove loro non riescano a farlo e ovviamente laddove non hanno i soldi per anticiparsi le spese, visto che la legge 26 posticipa le spese e non le anticipa e quindi automaticamente aiutiamo anche economicamente a pagargli le spese che devono affrontare. SWS non vuole promuovere la delocalizzazione delle cure, ma per ora sono centinaia i sardi in difficoltà aiutati dall'associazione che possono aspirare a un trattamento di cui il sistema sanitario sardo non dispone. Per questo l'associazione Domumia ha voluto supportare gli obiettivi di SWS donando un suo ufficio. Vogliamo fare sinergia soprattutto con tutte le altre associazioni perché da soli non si va da nessuna parte. Quello che succede oggi a Quartu è importante perché dà un altro step in più alla nostra rosa di servizi cioè quella di avere un co-housing dove coabitano e cooperano insieme diverse realtà, diverse associazioni.